Bella a tutti asfaltoni, benvenuti su Leontube e su A9 Ita Switch eccoci col primo round del Grand Prix della Jaguar XJ220S e andiamo a vedere, io sono capitato nel tier più basso, ho fatto un tempo di 1-10 e qualcosa negli allenamenti, il girone con 2-3 giocatori potenzialmente forti diciamo esperti, quindi forti, il resto sono giocatori di club che giocano poco non è detto che siano scarsi, non è detto che siano forti, li vedremo durante queste gare intanto qua i primi due, hanno già girato i primi due scesi in pista, hanno fatto un tempo un po' alto e niente, qui sono nel tier 5 quindi possibilità di vincere soltanto una chiave quindi solo il primo può vincere la chiave andiamo ad allenarci in questa pista di Buenos Aires, nel parco allora ancora potrei potenziare l'auto sono due stelle potenziate per una stella e quindi andiamo a vedere cosa riusciamo a fare questa è una pista ostica di Buenos Aires con curve insidiose anche se questa pista l'abbiamo già fatta mi sembra erano praticamente la parte dove vengono per nessuna Nette Qui un bell'errorino E' un tempo eccezionale Fare molto meglio Fare un altro tentativo Questi sono i premi In palio vedete i token come sempre Deve fare 400 metri Battere il tempo di 1.1 Battere il tempo di 1 minuto E poi un progetto Se riusciamo a completare tutti gli obiettivi Nel pacchetto non ho trovato ovviamente Un progetto e nemmeno Il pezzo di importazione e adesso andiamo a fare Il secondo tentativo Abbiamo 3 tentativi con la benzina Se avete il pass ne avrete di più E via ci prepariamo Eccoci qua Abbiamo ovviamente 20 24 Un progetto Un progetto Ok, io ho finito, provo qua. il punto sopra il testivo di prima è questo tratto non male potrei fare ancora un secondo in meno perché quell'inter tempo che ho preso 3 tempi virtuali avevo fatto 30 potete anche vederlo nel video alla azzurra sopra la vulva dello stadio ok niente e andiamo a fare anche un tentativo di gara per vedere se fuori e staniamo qualcuno possiamo ancora potenziare l'auto e fare ancora un pochino meglio ma andiamo a vedere cosa riusciamo a fare in gara sperando di non fare errori facciamo un solo tentativo quindi fate tutto il tifo per noi un pollicione verso su iscrivetevi al canale mi raccomando e andiamo a vedere come va questo tentativo eccolo qua vale sembra un pochino costa non è ne che poi 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 e sono ok ho l'auto più forte degli altri gli altri non sono riusciti a sbloccarla ancora evidentemente è la prima stella avranno ancora tempo e ora incrociamo le dita e aspettiamo gli altri del girone gli altri nostri avversari di questo round e vediamo cosa riusciranno a fare importante questo winwood diciamo i più e anche questo blind fury sono quelli un po' più con club più grandi ma non è detto che gli altri siano giocatori di un livello più basso e qui ci salutiamo ci vediamo presto con il secondo round se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace condividete il video con i vostri amici nei vostri social mi raccomando vi aspettiamo tutti su telegram su a9 ita cercate il nostro gruppo dove potete unirvi alla nostra community fa parte anche voi degli a9 italia e niente iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per non perdere i nostri video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti